Sette sezioni espositive per evidenziare diversi aspetti del processo unitario nella provincia di Salerno, o per meglio dire nell'allora Principato Citra, a proporle una delle due mostre curate dall'archivio di Stato di Salerno e che saranno inaugurate il 25 marzo prossimo alle 17. Un'esposizione dal titolo Un Popolo, Uno Stato, Conquiste, Problematiche dell'Unificazione Italiana, allestita nell'edificio di Piazza Badeconforti in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Un percorso che parte dall'ultimo periodo borbonico, arrivando ai plebisciti del 1860 e quindi all'anno seguente, ricco di avvenimenti importanti per il nascente Stato unitario. Prima, il 18 febbraio, le elezioni del nuovo Parlamento, di fatto l'ottava legislatura in linea con l'amministrazione sardo-piemontese, con diversi salernitani eletti, tra i quali Amendola e Raffaele Conforti, poi Ministro di Grazia e Giustizia. Parlamento ricordato per la famosa legge 283, esposta all'archivio di Stato, che il 17 marzo 1861 sanciva che il re Vittorio Emanuele II avrebbe assunto per sé e preso ai successori il titolo di re d'Italia, una legge firmata tra gli altri da Camillo Benzo Conte di Cavour. Ma il percorso espositivo va oltre, proponendo anche un viaggio storico nelle monete dell'epoca, tratte dalla ricca collezione Bilotti. Abbiamo organizzato questa mostra valendoci della nostra documentazione e della raccolta numismatica che fa parte del fondo Bilotti qui depositato. Questa mostra mette in luce i vari aspetti del processo di unificazione, le trasformazioni istituzionali, i moti reazionari, il rapporto massa e potere, il brigantaggio, i rapporti Stato e Chiesa. Voglio dire che oltre alla nostra mostra è anche allestita un'altra mostra da parte della Chiesa Evangelica dal titolo Evangelici e Risorgimento.